In una valle solitaria, circondata dai fruscii delicati della natura, viveva un uomo di nome Benedetto. Nato a Norcia intorno all'anno 480, fu testimone di un mondo intumulto, con l'impero romano d'Occidente che cedeva sotto il peso delle invasioni barbariche. La sua nascita in una famiglia nobile non gli impedì di percepire il vuoto spirituale che avvolgeva il suo tempo. Benedetto fu mandato a Roma per studiare, ma si trovò presto disgustato dalla corruzione e dalla dissolutezza che infestavano la città. Decise così di abbandonare quella vita e di cercare Dio in un luogo isolato. Si ritirò a Subiaco, dove trascorse tre anni in una grotta, immergendosi in un'intensa vita di preghiera e contemplazione. Fu lì che il giovane uomo sentì per la prima volta il vero richiamo della sua anima. Nonostante le tentazioni e le difficoltà, la sua fede non vacillò. Anzi, divenne una guida per altri monaci che cercavano una direzione spirituale. Ma il percorso non fu semplice. La sua disciplina rigorosa non fu ben accetta da tutti, e Benedetto dovette affrontare persino tentativi di avvelenamento. Tuttavia, questi ostacoli non fecero altro che rafforzare il suo spirito. Verso la metà del secolo, Benedetto trovò il luogo ideale per il suo più grande progetto. Un monastero situato in cima al Monte Cassino, fondato nel 529. Era un luogo che simboleggiava la visibilità e l'importanza della vita monastica, non solo come rifugio spirituale, ma anche come faro di fede per la comunità. Il santo compose la sua regola, un testo che sistematizzava la vita monastica basandosi su un equilibrio di preghiera e lavoro. Questa regola non solo organizzava la giornata in momenti di lavoro manuale e liturgia delle ore, ma delineava anche un cammino verso Dio attraverso l'obbedienza e l'umiltà. Benedetto insisteva sul fatto che ogni azione doveva mirare alla gloria di Dio e all'aspirazione al Paradiso. Negli ultimi anni della sua vita, Benedetto ebbe una visione che simboleggiava la sua eredità spirituale. Il mondo intero raccolto sotto un raggio di sole, una metafora del suo spirito espanso, capace di abbracciare l'umanità. Quella visione era una chiamata per l'Europa, un invito a ritrovare le radici cristiane che aveva aiutato a piantare e nutrire. San Benedetto morì dopo una vita dedicata alla ricerca di Dio e alla guida di altri verso la stessa luce. La sua eredità continuò a influenzare l'Europa per secoli, sopravvivendo alle epoche di guerre e cambiamenti radicali. Oggi, come allora, il messaggio di Benedetto risuona ancora, invitando ciascuno a cercare la verità più profonda e a vivere una vita che trascende il materiale per toccare il Divino. Grazie di cuore!